Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ma ora veniamo a una storia che ha attirato l'attenzione mediatica da giovedì scorso. Parliamo di Via Cellini, al civico numero 3, dove vive insieme alla sua famiglia Kimberly Bonvissuto, una giovane ventenne che è scomparsa dal radar da lunedì. È uscita di casa nel pomeriggio ed è scomparsa nel nulla, senza dare alcuna notizia. La cosa inquietante è che nei giorni precedenti non c'erano segnali che facessero pensare che Kimberly stesse attraversando un momento difficile. Tuttavia, da lunedì pomeriggio, sembra che sia come se si fosse volatilizzata. Inizialmente, aveva tranquillizzato la madre al telefono dicendo che era con la cugina, ma ora sembra che questa versione dei fatti non sia del tutto veritiera. Le indagini hanno portato alla luce un'ipotesi intrigante, sembra che Kimberly potrebbe essere in compagnia di un'altra persona, un giovane con cui aveva organizzato un incontro segreto, tenuto nascosto ai familiari. E ieri, intorno alle 19, è giunto a Via Cellini il padre di Kimberly, Mariano Bonvissuto, che vive in Sicilia. Con un misto di preoccupazione e affetto, ha lanciato un appello sincero alla figlia. Kimberly, se mi stai ascoltando, per favore, chiamami. Non importa cosa sia successo, non voglio giudicare. Voglio solo sapere che sei al sicuro. Io devo rimanere qui, immobile, in attesa di notizie su ciò che è accaduto, perché qualcosa è successo, ma al momento non so cosa sia. Chiamami. Nel frattempo, gli agenti del commissariato stanno lavorando instancabilmente per cercare di gettare luce su questa misteriosa scomparsa.